Giù le mani dal porto di Salerno, questo il motto della protesta partita proprio dagli operatori portuali per dire no all'accorpamento Salerno-Napoli. E noi di 089 oggi abbiamo avuto il piacere di discuterne con Agostino Gallozzi, presidente della Salerno Container Terminal. Con Agostino Gallozzi, presidente della Salerno Container Terminal e anche nelle vesti di presidente di Assotutela, oggi siamo qui per discutere le ricadute e gli effetti del decreto di riordino porti italiani. Presidente, lei da tempo sostiene che il porto di Salerno costituisca un'eccellenza e rappresenti anche un volano dell'economia cittadina. Ebbene, mettendo un attimo da parte la questione dell'accorpamento, che cos'è oggi il porto di Salerno? Il porto di Salerno, sintetizzando, è la più grande finestra sul mondo dell'economia della nostra provincia. Anche perché prima di parlare del porto, dei porti, e quindi della funzione dei porti, dobbiamo capire qual è il futuro della nostra economia, in che direzione dobbiamo muoverci per sviluppare le nostre imprese, il che poi significa sviluppare l'occupazione, il che significa dare un contributo reale a evitare quella fuga dei cervelli rispetto alla quale noi ci dogliamo, ma poi non facciamo nulla. La fuga dei cervelli si blocca se noi sviluppiamo le imprese. Le imprese italiane e le imprese della nostra provincia crescono se hanno capacità di affermarsi sempre di più sui mercati internazionali. Il nostro PIL cresce se siamo capaci di produrre di più e di vendere di più. È ovviamente chiaro che non possiamo vendere di più sul mercato domestico perché abbiamo una scarsa capacità di spesa e quindi la soluzione è produrre di più e vendere di più sui mercati con capacità di spesa e quindi esportazione. Per arrivare a questo obiettivo, che deve essere l'obiettivo paese, perché dietro la crescita delle imprese poi si nasconde la crescita della società e quindi la crescita dell'occupazione e quindi un futuro per i nostri giovani, abbiamo bisogno di finestre o di gateway competitivi, importanti, che mettono in connessione la nostra economia delle produzioni con i mercati del mondo. Il porto di Salerno oggi è esattamente questo. Questa è la motivazione per l'esistenza di un porto come quello di Salerno che al di là dei numeri che sono molto importanti, è il sesto porto d'Italia per merci varie, quindi per merci che non siano le rinfuse liquide, i petroli per dire, merci prodotte, merci hardware, è il sesto porto d'Italia con 13 milioni di tonnellate di merci movimentate nel 2015. È un numero incredibile. Però in realtà al di là delle statistiche e dei numeri, il valore aggiunto è la quantità di interconnessioni con il mondo che il porto di Salerno è capace di mettere in campo e di due settimane fa l'inaugurazione per esempio di un servizio contenitori transoceanico che collega Salerno non solo con il nord Europa ma con l'Australia, con Singapore, da Singapore con tutta la Cina, con la Malesia, quindi tutto il sud-est asiatico, India, Sri Lanka, Mediterraneo. Ed è l'ultimo tassello di un porto che di fatto collega la nostra economia con qualsiasi angolo anche il più remoto dello scenario internazionale. Questo è il valore aggiunto. Cioè le nostre imprese possono esportare in maniera competitiva attraverso il porto di Salerno in tutto il mondo. Il ministro del Rio recentemente però ha affermato, ha rincarato la dose affermando che l'accorpamento si farà garantendo però pari dignità e autonomia al fine di non intaccare gli equilibri delle due realtà portuali campane. Ma nella pratica l'accorpamento che cosa comporta, cioè cosa comporta la creazione di un'unica autorità portuale facente capo a Napoli? Diciamo che l'argomento si presta a una serie di ragionamenti, approfitto per farli perché è un tema sul quale mi soffermo veramente tanto. C'è quest'idea della riforma dei porti per dare una certa dose di soluzione a delle criticità che sono emerse negli ultimi anni. La nomina dei presidenti, la governance, la capacità del ministro o del ministero di controllare investimenti fatti nei porti, un allargamento a una visione più intermodale delle funzioni portuali e non soltanto nel porto. In realtà questi tre temi sono già contenuti nella legge attuale. Io temo che poiché la politica non riesce a dire non siamo stati capaci di fare e di fare bene e non volendosi assumere la responsabilità di tanti porti commissariati preferisca dire è la norma che è sbagliata, cambiamo la norma. No, in realtà la norma nuova rispecchia ciò che oggi già può essere fatto. La preoccupazione è che se la componente politica pubblica non è riuscita a risolvere come legge attuale possa non risolvere neanche domani. Ma a prescindere da queste considerazioni di carattere generale poi viene fuori gli accorpamenti. E' chiaro che ci sono porti molto piccoli in Italia che probabilmente vanno accorpati nel senso che porti molto piccoli, dico Molfetta per dirne uno, fanno talmente poche merci che l'autorità portuale non doveva nascere per nulla. Ma porti importanti come Salerno, io ripeto, sesto porto d'Italia per movimentazione di merci, non può essere gestito per corrispondenza. Nel senso che le autorità portuali presidiano la complessità di un sistema portuale, di un porto. La complessità significa tante imprese che lavorano, tante navi che arrivano, tanti camion che portano merci, tante merci che vanno consegnate, il rapporto con la città, con gli enti territoriali. Questa gestione della complessità non può essere demandata a un soggetto che non sia territorialmente presente. Questo è il primo argomento. L'altro argomento è che non si capisce per quale ragione la campagna debba essere depotenziata. perché la Liguria mantiene due autorità portuali, Genova e La Spezia. La Puglia mantiene due autorità portuali, peraltro salvate last minute, Bari e Taranto. La Sicilia mantiene due autorità portuali che sono Palermo ed Augusta. E sono certamente regioni che non hanno una maggiore presenza marinaresca nello scenario internazionale né nazionale. E da questo punto di vista non si capisce per quale ragione la campagna non debba difendere, così come ha fatto Liguria, Puglia e Sicilia, la propria potenza di fuoco in ambito portuale che è proprio mantenere le due autorità portuali. Dice il Ministro coordinamento e non accorpamento, ma non è ciò che dice il decreto. Nel senso che sicuramente le buone intenzioni del Ministro sono quelle di lasciare un certo livello di autonomia. Oggi il decreto dice esattamente il contrario e parla di accorpamento per rincorporazione, e cioè il porto accorpato di fatto sparisce dallo scenario e dalla capacità gestionale. La vicenda dell'accorpamento è stata in realtà negli ultimi mesi al centro del dibattito locale e nazionale. E noi di 089 diciamo che ci siamo focalizzati, innanzitutto ne abbiamo seguito gli sviluppi focalizzandoci anche sulla protesta che è partita proprio dagli operatori portuali con il motto giù le mani dal porto di Salerno. Ebbene, ora quello che i cittadini salernitani chiedono e sono anche curiosi di capire è quanto questa riforma inciderà sul livello occupazionale. Quindi quali saranno le ricadute nei termini di posti di lavoro? Sì, diciamo una correlazione diretta è difficile da fare perché parliamo comunque di ipotesi di prospettiva. Però che cosa dice il decreto legge o lo schema di decreto legislativo che è stato approvato dal Parlamento e che noi obiettiamo? E che poi ovviamente al di là di ragionamenti fatti a livello ministeriale crea anche il disagio di base e lo slogan che poi esemplifica il sentiment che adesso c'è. Il decreto dice che il porto accorpante, quindi nel nostro caso Napoli per esemplificare, ha competenza e delibera per il porto accorpato. Quindi per Salerno, esemplifichiamo, Napoli delibererebbe per Salerno il piano regolatore portuale e quindi delibererà che cosa è il porto di Salerno dal punto di vista della infrastrutturazione del piano regolatore portuale, stabilisce quali sono le aree adibite al traffico merci e con che destinazione d'uso. Quindi sarà Napoli a dire quali sono le merci che potranno essere movimentate nel porto di Salerno e sarà sempre Napoli a determinare il piano operativo triennale, quindi il piano degli investimenti infrastrutturali per il futuro dello scalo di Salerno. Questo cosa significa, detto in maniera molto sintetica, è che la comunità salernitana di fatto viene totalmente estromessa rispetto alla capacità di gestire il proprio futuro. Il futuro è determinato da queste scelte. L'autorità portuale di Napoli potrebbe scegliere quali sono le merci che vengono a Salerno, potrebbe decidere di cambiare completamente la destinazione d'uso delle nostre aree. E poiché, come dicevo prima, il porto è la prima finestra di accesso ai mercati internazionali ed è un porto molto vivace dal punto di vista dell'interscambio internazionale e la preoccupazione è che questo possa essere modificato a vantaggio degli uni rispetto agli altri e è chiaro che questo porterebbe come conseguenza uno svilimento delle attività portuali salernitane che potrebbero poi portare come conseguenza una ridotta capacità di fare occupazione o certamente di non continuare con le premesse che abbiamo, l'abbiamo assunto nel 2015, assumeremo nel 2016, quindi verso una prospettiva di crescita dell'occupazione. Bene Presidente, allora noi la ringraziamo per la sua disponibilità e auspichiamo magari nella creazione di una sedicesima autorità portuale che possa essere appunto Salerno. Grazie, grazie a voi.